A dare notizia per primo dell'intesa è stato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Da ieri gli occupanti della sede dell'Università di Scampia hanno lasciato l'Ateneo. La protesta per i timori sul futuro dopo il crollo del ballatoio al terzo piano nella vela celeste avvenuto il 22 scorso è rientrata. La liberazione del plesso con contestuale sostegno agli abitanti è stata ritenuta prioritaria da tutte le istituzioni. Il Comune di Napoli si è attivato per le necessarie iniziative di carattere organizzativo e il sostegno immediato ai nuclei familiari colpiti, stanziando un fondo dalla immediata disponibilità per favorire temporanee ma autonome sistemazioni. A ciò si è aggiunta l'iniziativa del Governo con la previsione di un ulteriore stanziamento di fondi per l'affitto di cui potranno beneficiare le famiglie interessate ad eccezione degli occupanti abusivi dello stabile. Le forze di polizia e la polizia locale, i vigili del fuoco, la Regione Campania e la protezione civile, i volontari, i parroci di Scampia hanno fortemente contribuito a realizzare l'apprezzabile risultato e il commento che arriva dal Comune di Napoli. È stata fondamentale la condivisione del percorso realizzato con i comitati, gli abitanti e i rappresentanti del territorio, ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi. Tutte le persone hanno lasciato l'università in maniera pacifica. Ciò è stato possibile grazie non solo al dialogo incessante mantenuto in un momento difficilissimo con queste famiglie, ma anche alla sinergia creatasi col Comune. Bisogna andare avanti con questo metodo fino al completamento di Restart Scampia, ha infine dichiarato il presidente della Municipalità, Nicola Nardella.